Cos'è la meditazione Samadhi? La meditazione di Samadhi è una forma avanzata di concentrazione che i suoi praticanti dicono permette a una persona di raggiungere il più alto stato di coscienza. È considerata una meditazione totale e completa. Nel Yoga Sutra, il Samadhi viene spiegato come uno stato di completo controllo del corpo e della mente. Samadhi significa uno o lo stesso e caratterizza uno stato in cui il meditatore diventa uno con l'oggetto della meditazione. Buddha insegnò questo tipo di meditazione usando quaranta oggetti di considerazione, tra cui il respiro, i vari colori e la riflessione sull'idea della bontà vivente. Nell'induismo, il Samadhi viene descritto come consapevole della tua esistenza senza pensare. Il meditatore diventa uno con l'universo consapevole della natura della realtà. La meditazione di Samadhi è considerata il più alto livello di meditazione concentrata. Lo stato alterato della meditazione Samadhi è uno di gioia e beatitudine, in cui il meditatore viene rilasciato dagli strati illusori del sé, come il corpo e l'ego. È uno stato di resa in cui si è liberi dalla sofferenza e totalmente allineati con la coscienza universale. Nel Samadhi, si dice che il meditatore sia libero da pensieri e ogni attaccamento. Non c'è illusione o separazione in questo stato meditativo. Si dice che sia la gioia della pura unità, in cui la coscienza individuale si fonde con la coscienza universale. Ai principianti in meditazione si consiglia di non tentare di raggiungere il livello di concentrazione necessario per raggiungere la meditazione Samadhi. È molto difficile da raggiungere e molta preparazione è necessaria prima di tentare di raggiungere questo stato meditativo. Pochissimi meditatori riescono a raggiungere la meditazione Samadhi. Si dice che i meditatori che raggiungono il Samadhi si fondano con l'energia divina universale e sperimentino la pace totale. Secondo i praticanti, le persone che raggiungono questo stato potrebbero perdere il desiderio di tornare alla normale esistenza dopo aver sperimentato la beatitudine totale della meditazione Samadhi. La meditazione di Samadhi è considerata un perfetto stato di coscienza e un passo per raggiungere l'illuminazione. Permette al meditante di vedere tutti e tutti più chiaramente, e può cambiare il modo in cui il meditatore percepisce se stesso e il mondo in cui esiste. La meditazione del Samadhi è considerata uno stato di pura pace, al di là della sofferenza e della separatezza, in cui ogni dubbio scompare e rimane solo la pura coscienza della vera natura del sé.